Geremia 17 verso 9 dice Il cuore dell'uomo è ingannevole su ogni cosa Niente è ingannevole quanto il cuore dell'uomo E continua Geremia, e chi è il cuore dell'uomo? Il problema è che non sappiamo quanto cattivi siamo nel nostro cuore Ma Dio dice nella sua parola Il tuo cuore è malvagio su ogni altra cosa è ingannevole Un cuore disperatamente malvagio Farà tante tante cose Ma non cercherà Dio Giovanni 13 verso 17 e 18 Dice Dice che l'uomo ama le tendere Piuttosto che la luce Le sue opere sono malvagie Io ho una tebolezza nei miei occhi Il sole facilmente li ferisce E quindi devo mettermi il vecchio nella sole Fotofobia Fotofobia Spiritualmente L'uomo è fotofobico E gli ama le tendere Invece che la luce Quindi Gesù Gesù nella Bibbia dice E quindi non verrà la luce Perché non vuole che le sue opere siano visse alla luce Quando la luce colpisce i nostri occhi fisici Cioè fa molto male E spiritualmente Questo è che accade con il peccatore Quando arriva la luce di Dio Non lo voglio Non mi piace Quindi prendiamo un peccatore Il Dio infinitamente santo Lui scappa via Questo Dio infinitamente santo La maggior parte delle religioni Insegnano anche da scappare via Dio Le religioni quotidiane non è vero Li insegneranno a cercare vero Romani 1 dice questo Dice che è sostituire vero Dio Ognuno, dice Romani 1, conosce Cioè distintivamente è saggio Questo Dio E che ci ha creato e ci governa Ed è molto saggio E' potente Ma per la maggior parte delle persone Essere atei è troppo una cosa dura Il continente più ateo della Terra E' l'Europa E avete filosofi, pensatori, scienziati Attacking the idea of God For several centuries L'idea di Dio E lo fanno circa 12 secoli E nonostante tutto questo Ci sono ancora un sacco di persone Che in qualche modo Ancora credono in Dio E quindi Adesso non volete fuori Veri religioni Questo anziché Adesso questa religione Non vuole essere cercato Il vero Dio Ma è farsi un altro Dio E sostituirlo al vero Dio Per non pensare a quel vero Dio Per lasciarlo fuori Io mi ricordo Prima di diventare un cristiano Pensavo di essere una brava persona Poi sono andato un teenager E ho cominciato a godere delle cose Che gli piacciono a quelli della mia età Come teenager E ho cominciato a capire Che io non ero così una brava persona E poi ho capito Che questa Bibbia È un problema per me Se questa Bibbia è vero Io vado all'inverno Quindi ho cercato di essere un ateo Perché ho cercato In questo mi posso rifugiare Non c'è nessun Dio Che mi giudica E io posso fare quello che voglio io Ma comunque non mi soddisfaciva Quindi per la maggior parte delle persone Mettiamo su una bella statua Facciamo così che il prete si prenda quello che vuole Mettiamo su Allah O il buddismo O il esistenzialismo O qualche altra forma di pensiero Che prenda il posto di questo Dio La storia del mondo Non è nient'altro che la storia dell'uomo Che cerca di scappare da Dio Questa è la condanna Che la luce è venuta nel mondo Personalmente in Gesù Cristo è venuta E verbalmente nella Bibbia E gli uomini hanno nomato l'eterno Piuttosto che la luce Perché le sue opere sono morbagge Dice Gesù in Gioenni 3 Perché chiunque fa il male Odia la luce Né viene questa luce Così che le sue opere non siano riprovate Tutti noi in qualche modo facciamo esperienza di questo Perfino a un livello terrestre L'uomo collega di lavoro Un amico oppure il nostro sposo O sposa E ha fatto qualcosa di male Noi diciamo Aspetta però c'è quello lì Perché ha fatto sì Che io fessi qualcosa di male E io invece avevo Quello con una buona intenzione Dopodopolo E poi Ma è funzionato E quindi in qualche modo Giustificiamo Romans 8 Verso 8 quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio questo essere nella carne nella Bibbia significa che tu non sei un credente sei al di fuori dallo Spirito Santo quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio l'Ebrei 11 invece dice che quelli che sono senza fede non possono piacere a Dio quindi la fede in Gesù è la cosa numero uno di cui abbiamo bisogno per piacere a Dio senza questa niente piace a Dio quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio anche io ero così quando io ero 17 anni ho cominciato a leggere la Bibbia e ho accettato che era vera ma non riuscivo a credere mi sforzavo a credere e sapevo che non avevo creduto perché io poi pensavo sappiamo che un cristiano poi quello che mi viene in giro questo sembrava una cosa stupida e quindi così passarono un sacco di giorni e continuavo a sforzarmi saranno mesi e mesi poi una notte mi ricordo ho creduto perché in quel momento Dio mi dite nuovo e così ho creduto quindi noi diciamo che non abbiamo una libertà della volontà in questo senso ma che la nostra volontà è schiava noi facciamo scelte nella nostra vita di alzarci fare colazzi cosa indossare queste sono scelte le facciamo facciamo migliarie e migliarie scelte con questa redenza ma quella che non facciamo mai e non possiamo mai fare è credere nel vero Gesù della Bibbia non c'è non è in nostra capacità a fare questo e quindi Dio ci dà un nuovo cuore come dice nella Bibbia e quindi noi crediamo e questo è Giovanni 3 verso 8 è come è lavorato dal vento questa cosa Gesù dice il vento soffia dove vuole non sapete neanche dove viene e dove va Gesù disse quindi a Nicodemo così è di chiunque è nato dallo spirito lo spirito è come un vento che viene dal cielo e lo soffia da vuole su questo o su quello e quindi così uno nasce di nuovo e ci sono altri di questo vento non soffia e quindi loro non nascono di nuovo